Quali sono le ragioni di questa giornata di agitazione che si terrà il 25? Noi siamo molto preoccupati per uno stallo che si registra nella prosecuzione delle attività di competenza della Regione Abruzzo rispetto alla riforma dei trasporti. Abbiamo fatto la società unica di trasporto, mancano dei pezzi importanti. Il primo è la definizione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. Su questo c'è una diatriba tra il Presidente della Seconda Commissione e l'ex consigliere delegato dei trasporti per delle relazioni di traffico commerciale sull'Aquila. Noi riteniamo che debba essere immediatamente aperto un tavolo di confronto di merito e bisogna far avanzare il processo di trasformazione della delibera di giunta in legge regionale. Questo è necessario sia per consolidare l'in-house nell'affidamento a Tua dei servizi, il 67% dei servizi, conseguentemente permette di salvare i 1600 posti di lavoro dei dipendenti di Tua. Ma non solo questo, consente anche di indire le gare che servono per affidare ai vettori privati il restante 34%. Oggi in conferenza stampa avete anche parlato di una perdita di Tua durante l'esercizio in corso. Sì, non è solo una perdita di Tua, nel 2014 avevamo 187 milioni di euro di ferro-gomma di finanziamento, adesso siamo a 177 milioni, ci sono 10 milioni in meno. Quindi su tutto il TPL abruzzese questa cosa pesa e quindi dovremmo capire come intervenire e la Regione dovrebbe individuare i servizi minimi in rapporto ai soldi che ha, eliminare le sovrapposizioni che ci sono e vedere quali sono i servizi minimi da mettere a gara. Senza questi servizi minimi che alcuni vorrebbero bloccare non si può fare neanche le gare. Adesso resta soltanto da fare l'ultimo passaggio che è quello dell'approvazione della delibera che consentirà l'affidamento dei servizi alla società per tutto il resto del territorio. Perché quei chilometri che sono stati sottratti alla contribuzione, perché gestiti anche dai privati, vengono spalmati su altre relazioni delle aree interne, delle aree penalizzate. Faccio un esempio per tutti, un lavoratore di Castiglione che va a vasto, nessuno ha considerato di questi attori che stanno sul tavolo, che probabilmente quello viene con la macchina e invece potrebbe fruire di un servizio migliore dando una corsa aggiuntiva. Quindi i contributi dei cittadini abruzzisi vanno impiegati in maniera utile ed efficiente.